Entra nel mondo del cinema nel 1943, a Roma, dopo un provino con il regista Ferdinando Maria Poggioli, alla ricerca di attori per il film Sorelle Materassi, ottenendo una piccola parte. Dopo la guerra sarà scritturato spesso per ricoprire parti di giovane atletico e appariscente per lavorare in circa 55 film e chiudere la carriera nel 1966. Lavorerà con registi come Renato Castellani, Pietro Francisci, Luigi Zampa e Vittorio Cottafavi, accanto ad attori come Alberto Sordi e Luisa Rossi.